E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie, abbonati al canale. Buona visione! O tu, che nel tuo desiderio di servirmi sei entrato in una chiesa, in un'organizzazione religiosa, in una società occulta, in un qualunque ordine spirituale, credendo di far cosa grata a me, con l'aiutarne e appoggiarne l'opera, nella speranza di ricevere in cambio favori speciali da me? Ascolta queste mie parole e medita su di esse. Innanzitutto sappi che già mi compiaccio di te, poiché tu non fai nulla che io non ti faccia fare e quando fai è per compiere il mio intento, anche se a volte può sembrarti di agire contro il mio volere e solo per soddisfare i tuoi desideri. Inoltre sappi che io provvedo a tutte le menti, tutte le esperienze della loro vita, che le utilizzo unicamente per preparare il loro corpo, risvegliare il loro cuore e sviluppare la loro coscienza in modo che possano comprendersi, esprimere così, per mezzo loro, la mia idea. Mediante queste esperienze, io ispiro alle menti, barlumi di me e della mia idea e ho parlato, con tali ispirazioni, a molti che hanno raccolto le mie parole, le hanno scritte in libri e le hanno insegnate ad altre menti. Con tali parole ho risvegliato i cuori e la coscienza di quanti erano pronti a riceverle, anche se gli scrittori e gli istruttori non comprendevano il mio intento. Molti di quelli le cui menti ispirò così, io li faccio diventare istruttori e guide di altri ed essi, organizzando chiese, società e culti, attirano ricercatori e seguaci di modo che io, mediante parole che dico per mezzo loro, possa risvegliare i cuori e la coscienza di quelli che sono preparati a riconoscermi. Ma sono io, l'impersonale interno, che fa tutto ciò e gli istruttori, le guide, personalmente non fanno nulla. Servono soltanto come canali attraverso i quali io posso esprimere la mia idea alla coscienza di quelli che a tale scopo attiro ad essi. poiché la mente è soltanto un canale e l'intelletto uno strumento che io adopero impersonalmente, dovunque e in qualunque tempo sia necessario per esprimere la mia idea. Solo quando il cuore si è risvegliato e si è aperto a contenermi, la personalità può, con la sua mente e il suo intelletto, comprendere coscientemente il mio intento, allorché io mi esprimo attraverso la mia idea. Tu, nel tuo desiderio di servirmi, puoi aver trovato in qualche istruttore o in qualche guida una personalità che, dalle meravigliose parole che io esprimo per mezzo suo, sembra contenerne già ora nel suo cuore. Nei tuoi dubbi, nella tua brama di essermi gradito e nella tua paura di spiacermi disobbedendo ai miei comandi, forse sei andato da qualcuno di quegli istruttori, che probabilmente asserivano di essere sacerdoti o sacerdotesse dell'Altissimo, e hai creduto di poter avere per mezzo di essi il mio messaggio o parole di aiuto e di consiglio da qualche maestro guida del mondo spirituale, reputato da te mio emissario. Fa pure questo, se vuoi. Anzi, sono io che ti offro tale possibilità. Se non vuoi o non puoi contentarti di confidare in me e di aspettare che io ti risponda e ti aiuti a mio tempo e a mio modo. Sì, ti mando perfino da questi sacerdoti e da queste sacerdotesse e lascio che tu riponganessi la tua fiducia e la tua fede. Lascio che essi ti nutrano di tutti gli insegnamenti e consigli spirituali provenienti da tali maestri e guide che tu puoi ricevere. Affinché, in dolore ed umiliazione per il disinganno che inevitabilmente sussegue, tu sia ancora una volta respinto su te stesso, sull'istruttore interno, su di me, sul tuo vero sé. Hai avuto tante delusioni, ti sei sottoposto a tutte le discipline, hai dato tutto il tuo ardore, tutta la tua devozione, per non parlare del tuo denaro e dei tuoi servigi, credendo di aiutare il mio lavoro. Invece, tutto ciò ti era carpito e veniva adoperato per costruire e rafforzare il potere personale e il prestigio di tali istruttori. Essi ti hanno alimentato con sottili adulazioni e promesse di avanzamento spirituale, usando un'abile sofistica sotto forma di altisonanti insegnamenti spirituali, allo scopo di tenerti legato ad essi, di farti continuare ad onorarli, tenendo sempre su di te la minaccia del mio malcontento se tu non davi loro indiscussa fede ed obbedienza. Tutto questo io ti porto, perché ciò che desideri e cerchi, e il desiderio è, in vero, la gente della mia volontà. Tu puoi anche aver dato il tuo amore e la tua devozione a qualche istruttore visibile o invisibile, bene intenzionato forse e spiritualmente saggio, il quale ti sembra non possa essere classificato fra coloro che ho menzionato e avesse ricevuto insegnamenti che ti paiono di inestimabile valore. Tutto ciò è bene finché senti il bisogno di ricevere, poiché io do quanto appaga i tuoi desideri. Però sappi che tutto ciò è vano e non porta ai risultati che cerchi, poiché la ricerca di un conseguimento spirituale è della personalità, quindi è egoistica e conduce solo alla delusione. Ma, se ben guardi, è appunto nella disillusione che raggiungi i veri risultati, poiché io stesso te li preparai e ti condussi verso di essi, presentandoti la possibilità di avere aiuto da qualche struttore umano. Le disillusioni e le umiliazioni te le procurai apposta perché tu, divenuto di nuovo più umile e docile come un piccolo fanciullo, ascoltassi ed obbedissi alla mia parola proferita dentro di te e, ascoltandola, potessi entrare nel mio regno. Tutte le ricerche esterne finiranno così e ti riporteranno solo e sempre a me, stanco, nudo, affamato, disposto ad ascoltare me e a fare qualunque cosa anche solo per una crosta del mio pane che, nella tua presunzione, prima disdegnavi. Ma ora, se ne hai abbastanza di insegnamenti e di istruttori e sei sicuro che dentro di te è la sorgente di ogni sapienza, queste parole porteranno al tuo cuore una gioia ineffabile poiché non confermano esse ciò che tu hai già sentito dentro di te come vero. A te, che ancora non puoi vedere questo e che hai bisogno di un intermediario, io ho provveduto con la storia del Cristo crocifisso per la tua redenzione, raffigurandoti in essa come desidero che tu viva in modo che attraverso la crocifissione della tua personalità tu possa innalzarti alla coscienza dell'unità con me. Ma a te, che sei forte abbastanza per comprenderlo, io dico che non occorre intermediario fra te e me poiché noi siamo già uno. Se tu puoi appena percepire questo, tu puoi venire direttamente ed immediatamente a me nella tua coscienza ed io, Dio dentro di te, ti accoglierò e tu dimorerai con me in eterno come fa mio figlio Gesù, l'uomo di Nazareth, per mezzo del quale io mi esprimo ora come duemila anni fa e come un giorno mi esprimerò per mezzo tuo. A te, che vorresti sapere come e perché io dico queste cose tanto belle e spirituali attraverso personalità che falliscono nel vivere gli insegnamenti che essi danno per propri, io dico io adopero tutti i mezzi di comunicazione impersonalmente per esprimere il mio intento. Alcuni ho preparato ad essere mezzi di espressione migliori di altri pur non conoscendo essi personalmente nulla di me. In alcuni ho risvegliato il cuore in modo che possano meglio contenermi e divenire coscientemente più uniti con me. Alcuni così sono divenuti uno con me. Non sono più separati da me nella loro coscienza ed io vivo, mi muovo ed esprimo in essi il mio essere. Fin dai primordi della terra io ho preparato i miei sacerdoti, i miei profeti, i miei messia per mostrare al mondo la mia idea, la mia parola che diventerà finalmente carne. Ma che io parli per mezzo di un sacerdote, di un profeta, di un messia, di un piccolo bimbo o del tuo peggior nemico, ogni parola che in modo vitale fa appello a te è la parola dell'io sono di te che parla attraverso l'organismo di quell'intermediario alla coscienza della tua anima. quando alcuni sono riuniti ad ascoltare la mia parola proferita da uno dei miei sacerdoti non è il sacerdote ma sono io nel cuore di ciascuno degli ascoltatori che attiro dal sacerdote le parole vitali che penetrano profondamente nella coscienza di ciascuno degli uditori. il sacerdote non sa che cosa nelle sue parole commuova gli astanti e non comprende neppure il mio intento nelle parole che dice ma io dentro di lui attraggo dalla devozione e dalla fede in me coscientemente ed inconscientemente espresse da tutti quelli che sono riuniti intorno a lui la forza spirituale che serve come canale di congiunzione mediante il quale io raggiungo la coscienza di quelle menti preparate a comprendere il mio intento poiché quantunque io dica per tutti le stesse parole in effetti esse contengono un messaggio distinto ciascuno per ciascuno in modo che ognuno comprenda solo il messaggio che dico a lui perché io dentro di te scelgo dalle parole che il significato che intendo per te e così per ogni tuo fratello dentro di esso per tutti scelgo il significato che intendo per ciascuno di essi quando due o tre sono riuniti insieme il mio nome io sono in mezzo ad essi poiché l'idea che li ha raccolti è la mia idea da me dentro ciascuno ispirata e con l'unione delle loro aspirazioni verso di me io cerco un canale per mezzo del quale rendo la coscienza di ciascuna di quelle anime capace di afferrare barlumi di me nella misura delle sue possibilità io faccio in modo che ogni sacerdote ogni istruttore ogni intermediario senta istintivamente questo poiché tutti sono miei ministri scelti da me così pure sveglio nel loro cuore il desiderio di circondarsi di seguaci per poter risvegliare nei cuori di quelli che sono pronti una coscienza della mia presenza dentro di loro il sacerdote l'istruttore l'intermediario possono non aver mai riconosciuto la mia presenza dentro di loro e pensare che io sia personificato in qualche maestro o in qualche dio o in qualche salvatore fuori di loro pure per mezzo di certe parole che faccio pronunciare ai miei ministri insieme alla forza spirituale fornita dai vari aspiranti io posso risvegliare la coscienza dell'anima di coloro che ho condotto a quei miei ministri alla reale comprensione di me l'uno impersonale che risiede nell'intimo nel cuore di tutti e di ciascuno poiché l'io sono del mio ministro e l'io sono di ogni seguace è uno uno in coscienza uno in comprensione uno in amore uno in scopo il quale è il compimento della mia volontà questo io sono che è interamente impersonale e che non conosce tempo né spazio né differenti identità utilizza solo le personalità dei ministri e dei seguaci e l'occasione del contatto personale come mezzo per dare voce alla mia idea che sempre si sforza dall'interno di esprimersi esternamente i ministri che approfittano della confidenza e della fede dei miei seguaci e le adoperano per avvantaggiare i propri interessi privati io li sveglio a suo tempo al riconoscimento del mio volere e della mia idea questo risveglio però è tutt'altro che piacevole per le loro personalità e quasi sempre cagiona molte sofferenze ed umiliazioni ma le anime gioiscono e cantano l'odia a me quando il fatto avviene dunque non stupirti se talvolta odi meravigliose parole di verità da labbra apparentemente disadatte a proferirle e da persone che forse non ne comprendono tutto il significato né del fatto che spesso semplici seguaci si risvegliano prima dei loro istruttori e si sviluppano più di essi io che dimoro tanto nell'istruttore che nei suoi seguaci scelgo differenti condizioni e fornisco diverse vie per l'espressione dei miei attributi in ogni anima adattando ciascuna di esse al tempo e al luogo in cui possono completarsi ed aiutarsi meglio a vicenda unendole così tutte nella più armoniosa espressione possibile della mia idea a seconda delle circostanze a in a in a a a a Grazie a tutti